Troppa Milano questa sera, o meglio in queste due partite? Assolutamente sì, Milano è una squadra molto solida, lo sappiamo, con tante possibilità anche di cambiare all'interno della partita e io penso che devo essere orgoglioso della mia squadra perché ci abbiamo provato, soprattutto a livello mentale, all'inizio, anche nella gara d'andata nonostante i parziali siano stati pesanti in alcune situazioni, però penso che ci abbiamo provato, abbiamo anche fatto delle buone cose provato a coprire, solo che quando devi sempre attaccare contro un muro ben organizzato, forte fisicamente, forte tecnicamente naturalmente diventa difficile e abbiamo pagato alla lunga questa pressione. Milano è una squadra di livello diverso da noi e quindi devo essere orgoglioso di quello che le ragazze hanno fatto e come hanno provato a giocare queste due partite molto complicate. Questa è l'ottava stagione di fila in Polonia per te, dopo un altro passaggio prima, ma cosa ha di speciale il campionato polacco e la Polonia per te? Io in Polonia personalmente mi trovo bene e poi l'altra cosa importante è che in Polonia fino adesso mi hanno dato lavoro, quindi è questa la differenza. Poi avete questi tifosi spettacolari, oggi erano qui in due trecento forse. Sono speciali, oggi erano centosessanta persone, sono sempre venute in tutte le partite di Champions League, in qualsiasi parte del mondo abbiamo giocato, sono spettacolari, in casa ci danno un supporto speciale, veramente sono qualcosa di speciale per noi. Ti piacerebbe tornare in Italia? Ovviamente mi piacerebbe perché il campionato italiano è un campionato che attrae molto, è normale che dopo tanti anni fuori il desiderio di tornare ci può anche stare. Però in questo momento, come ti dicevo, ho un contratto con la squadra dove sto allenando perché abbiamo prolungato il contratto, mi trovo bene e quindi cercheremo di essere più competitivi possibile, soprattutto in Polonia e poi quando usciamo di fare il nostro meglio. Grazie. Grazie.